L'effetto Fittipaldo continua a farsi sentire in casa scandone ed anche i tifosi sperano che il mercato possa continuare sulla stessa scia, anche perché rispetto alle bastate stagioni, la società bianco-verde sembra aver cambiato tendenza sul mercato. Se prima infatti si puntava prima le riconferme, ora gli obiettivi sono rivolti soprattutto ai volti nuovi. In quest'ottica infatti è già stato preso Bruno Fittipaldo, che è andato a riempire la prima casella da playmaker. L'ex capo d'Orlando potrebbe essere affiancato in cabbia di regia dall'italiano De Nicolao, in uscita da Reggio Emilia, che ha chiuso per Candy nello stesso ruolo. Ma in questo caso c'è una frenata della scandone, che non nasconde l'interesse per il cestista, ma vuole prima monitorare la situazione di Joe Ragland. L'agente e l'americano intervistato dal mattino è stato chiaro, all'atto dell'acquisto di Fittipaldo abbiamo avuto rassicurazioni che l'interesse per Giù resta immutato. Attendiamo le loro proposte, lo scorso anno Giù ha preferito Avellino nonostante offerte superiori. Per lui resta un legame speciale con il coach, alcuni suoi compagni e l'ambiente di Avellino. Sono tutti elementi che hanno pesato e potranno pensare a favore della scandone, sempre che la società mostri un reale interesse per il giocatore. Insomma, della serie, scandone se ci sei, batti un colpo. Sono parole che fanno sicuramente piacere all'ambiente bianco-verde, ma che non devono ammagliare troppo, anche perché Ragland rappresenta sì una priorità, ma come detto la società si sta già guardando intorno.